cari amici napoletani finalmente un crack finalmente un crack è una volta ogni tanto c'è se no se poteva più sia ben chiaro c'è tutto questo campionato è ancora a favore vostro e penso che nessuno ve lo possa portare via a perdere una partita ogni tanto bocca miseria sarà anche ora se no era diventato veramente un monopolio e guarda caso la squadra degli azzurri napoletani con chi va a perdere al maradona con gli azzurri laziali si dice alle volte sarà un caso ho visto tutta la partita napoli veramente che non ha fatto nulla o quasi nulla sarri che questa volta merita il mio applauso devo dire che merita il mio applauso perché ha fatto una partita tatticamente perfetta imbrigliando il napoli sotto tutti i punti di vista che non è non è riuscito praticamente a fare nulla di quello che invece solitamente il napoli sa fare molto bene coraggio coraggio tifosi napoletani è una partita dai una partita ve la potete anche concedere se no facevate 150 punti quest'anno una partita ci può stare perderla non succede nulla il campionato lo vincete comunque state tranquilli non è quello il punto è insomma una sconfitta che secondo me non brucia neanche più di tanto anche perché il napoli comunque non ha perso contro una squadra che è andata lì solo per fare le barricate una squadra che ha subito il napoli per 90 minuti c'è il napoli contro la lazio praticamente è stato quasi inesistente la lazio ha avuto più di un'occasione per segnare risultato giustissimo e meritatissimo vittoria di orto muso come quelle che piacciono all'allenatore juventino fan domas e che cosa dire io non è che gioisco per la vittoria del napoli assolutamente no non me ne può fregare meno però ciò non toglie che avremmo perlomeno la voglia di mantenere il record dei 102 punti come juventus non ci dispiacerebbe e questa sconfitta del napoli un pochino ci dà un po di fiato a noi juventini in questo senso ovviamente scherzo non me ne può fregare meno nemmeno quello perché il napoli sta facendo una stagione meravigliosa sotto tutti i punti di vista un inciampo può succedere doveva succedere prima o poi è capitato con gli azzurri di sarri però voglio dire io penso che sia anche giusto che qualche volta si perda anche meritatamente quindi il napoli secondo me stasera ha perso meritando perché il napoli si è fatto letteralmente come dico legare sia in attacco che a centro campo dove non è riuscito a fare praticamente nulla di quello che invece solitamente la bellissima squadra di spalletti riesce a fare stasera ha incontrato una squadra non più forte una squadra più solida una squadra tatticamente perfetta tutti i giocatori praticamente tutti possiamo dire quelli della lazio non hanno sbagliato nulla a mio parere gente come vecino per me è stato il migliore in campo vecino il migliore in campo la dice lunga su sta partita milinkovic savic ha giocato benissimo immobile si è sacrificato tantissimo luis alberto per me ha fatto un partitone quindi devo dire veramente una lazio stasera sugli scudi veramente perché sarri ha preparato proprio la classica partita per cercare di imbrigliare il napoli e ci è ampiamente riuscito dal lato napoli non ve la prendete tifosi napoletani alle volte perdere può capitare ma soprattutto quando si perdono partite come queste ritornare poi alla vittoria è ancora più bello è ancora più bello qualcuno ha detto che il napoli non arriverà integro alla fine della stagione perché prima o poi i giocatori scoppieranno io non ci credo a questa cosa perché per me il napoli è una squadra convintissima dei propri mezzi una squadra forte è una squadra solida e sono convinto che arriverà in fondo ripeto per me una sconfitta come questa è una sconfitta meritata che può capitare ci sta perché ripeto quando tu affronti squadre che tu schiacci per 90 minuti non riesci a segnare e quelli ti fanno un gol come si dice qui dalle mie parti di sghetto quelle sono sconfitte che bruciano questa sconfitta i napoletani non credo che bruci è una sconfitta è una tappa andata male può succedere consolatevi avete ancora un vantaggio enorme e non credo che lo scudetto sia attaccabile da parte degli altri anche perché come si vede dietro le altre non è che galoppano tutte anzi tutt'altro ha un saluto ai tifosi napoletani ovviamente che li abbraccio tutti